Ciao a tutti e benvenuti al tutorial 37, che in realtà è la seconda parte del tutorial 35, quella relativa al recovery. Per qualsiasi informazione richiesta siamo a completa disposizione, mandateci pure un'email o contattateci. Buona visione! Facendo riferimento a quanto detto precedentemente, oggi vedremo come effettuare il recovery della postazione sulla quale è presente Zimbra, Asteris, Chilafax e Avanfax attraverso chiaramente l'uso di backup precedentemente creati. E facendo riferimento chiaramente anche a uno script di recovery che metteremo subito a vostra disposizione sul nostro sito web. Se ricordate bene, l'ultimo giorno in cui avevamo creato la procedura di backup risaliva al 5 febbraio 2013. Il video invece, questo video è stato registrato il 12 febbraio 2013, quindi dovremmo, a rigor di logica, trovare dei backup effettuati e anche la cancellazione di quelli che non servono più. Andiamo subito a vedere una piccola modifica che abbiamo effettuato all'interno del nostro script backup rotation. Abbiamo aggiunto come ultima riga Find Backup Asterisk giornaliero, dove praticamente la rotazione del backup la effettua anche nella suddetta cartella e abbiamo ridotto il tempo di rotazione da 6 a 4 giorni. Quindi se vediamo subito se l'amount precedentemente creata è persistente e quindi lo è, quindi se dovessimo andare in slash backup troveremmo tutte le cartelle che lo script di creazione del backup ha creato. E quindi andando in cd asterisk giornaliero troveremmo i backup che crea automaticamente il free pbx e che poi lo script di backup rotation attraverso l'r-sync li riporta sul nas esterno nella rispettiva cartella. Andiamo in avant fax, andiamo in avant fax, troveremmo i backup che vengono creati attraverso lo script di avant fax, andiamo in ila fax, troveremmo i backup che vengono creati attraverso lo script di ila fax, e infine possiamo vedere all'interno della cartella Zimbra che effettivamente l'ultimo backup effettuato corrisponde al 12 febbraio alle 4 di mattina. Chiaramente il backup di Zimbra viene delegato a Zextras, ottima suite di backup. Ora non ci resta che creare subito uno script di recovery per vedere quanto sia facile gestire il recovery da determinati, da tutti i file che abbiamo creato precedentemente. Ok, il primo recovery che effettueremo sarà quello del server Zimbra. Quindi partiamo dal presupposto che abbiamo una macchina Zimbra completamente funzionante e intonza, completamente vuota. Accediamo all'amministrazione. Ok, admin è la nostra password. La prima cosa che dobbiamo effettuare è chiaramente andare in Zextras, nella sezione ZX Backup, e verificare che il percorso del backup vada... Dobbiamo eliminare il percorso del backup presente al lato dell'installazione di Zextras, che è quello di default, e inserire al posto di questo percorso il nostro percorso del backup, che se ricordiamo bene, fa riferimento chiaramente al NAS. Quindi andiamo all'interno del nostro server con la CLI, andiamo in CD Backup Zimbra, quindi troviamo effettivamente tutto il backup effettuato da Zimbra, copiamo il percorso all'interno del backup e lo andiamo ad inserire al posto di quello di default. Andiamo a salvare e magicamente ritroveremo i dati che ci consentiranno di conoscere tutte le caratteristiche del nostro backup presente. Quindi, a sinistra troviamo Last Full Scan, dove ci dice che la versione di Zextras è la 1.8.0, la versione di Zimbra è la 1.8.0.2. L'ultimo, Last Full Scan, cioè l'ultimo scan pieno, risali al 9 febbraio del 2013. E a destra abbiamo Last Smart Scan, l'ultimo scan, diciamo, leggero, intelligente, mettiamola così, risale in realtà al 12 febbraio 2013. In questo caso noi possiamo procedere tranquillamente al restore di un utente, andando tranquillamente in restore, andando a scegliere chiaramente la data relativa all'ultimo backup ripristinabile, che è il 12, andando avanti troveremo direttamente gli utenti che vogliamo ripristinare. Andando a selezionare Francesco, andiamo avanti, abbiamo la possibilità di utilizzare, chiaramente dobbiamo scegliere il nome dell'utente dell'eventuale recupero. Perché? In questo caso stiamo affrontando, stiamo meglio utilizzando un server Zimbra completamente vuoto, quindi non ci sono utenti. Ciò non toglie che potremo anche effettuare un recupero su un server Zimbra pieno di utenti. Quindi per non far collidere eventuali recovery, possiamo anteporre al nome dell'utenza che vogliamo recuperare un restored. Così per poter avere sia l'utente esistente già francescochiocciolabiable.it, con l'eventuale restored francescochiocciolabiable.it. Andando avanti possiamo anche inserire un'eventuale email di notifica, cliccando su fine l'operazione è stata messa in coda e la possiamo andare ad esaminare all'interno delle notifiche. Quindi il recupero, il recovery ha avuto inizio e quando chiaramente sarà terminato ci sarà un'altra notifica all'interno della quale ci sono tutti i dati relativi al recupero, sia avuto esito positivo o negativo. Possiamo andare chiaramente ad accodare anche un altro recupero. Andiamo avanti, andiamo ad effettuare il recupero di faxchiocciolabiable.it, lo possiamo anche chiamare come restored fax, fine. e anche questa operazione sarà accodata. In questo caso abbiamo effettuato il ripristino del primo, restored francesco, dove ci dice che l'utenza francesco è stata completamente recuperata e in questo caso abbiamo anche effettuato il recupero di fax, dove ci dice che l'utenza restored fax è stata completamente ripristinata quindi il recupero attraverso l'uso dell'ottimo zimlet zextras è stato effettuato, non ci resta che passare direttamente ad asterisk, ilafax e avantfax procediamo adesso al recovery di asterisk, ilafax e avantfax per certificare che chiaramente il server sia completamente vuoto da dati andiamo a verificare il nostro free pbx dove possiamo entrare con admin, admin eccolo qui, non ci sono per niente dati la nostra, e possiamo andare a verificare anche in slashfax il nostro avantfax che è completamente pulito ora, il primo step che dobbiamo verificare è il seguente andiamo ad accedere sempre al nostro server e andiamo a creare una cartella di recovery andiamo all'interno della cartella di recovery a creare una sottocartella ilafax e una sottocartella avantfax per riprendere un po' la struttura del backup quindi andiamo in backup cd asterisk giornaliero andiamo a prendere chiaramente il targz più nuovo lo possiamo fare tranquillamente selezionando col tasto sinistro e cliccando col tasto destro e andiamolo a copiare all'interno di recovery stesso dicasi per la cartella di avantfax dove possiamo andare a verificare il più nuovo quello risalente al 12 febbraio e lo andiamo a inserire nella cartella avantfax ultimo step è quello relativo alla cartella ilafax andiamo sempre a prendere il più nuovo e lo andiamo a mettere nella cartella recovery ilafax andiamo a pulire tutto andiamo in recovery e avremo in pratica il file contenente tutto il backup di asterisk creato precedentemente da free pbx il file contenente il backup di avantfax nella cartella avantfax e il file contenente il backup di ilafax all'interno della cartella di ilafax ora per semplificare le operazioni di recovery possiamo andare ad utilizzare un file uno script uno script che abbiamo creato e che metteremo sul sito web che potrete tranquillamente utilizzare e se avete la voglia di migliorarlo potete farlo senza alcun problema quindi andiamo nella cartella recovery andiamo in desktop nella cartella script andiamo a prendere il nostro recovery e lo mettiamo all'interno della cartella recovery a questo punto non dobbiamo altro che dare i diritti di esecuzione a recovery ed è pronto per essere utilizzato prima di andarlo ad eseguire diamo un'occhiata a recovery in pratica nella prima operazione che fa non fa altro che copiare tutti i targi zeta in recovery all'interno della directory ufficiale dove vengono depositati i backup di free pbx in modo tale che successivamente possiamo effettuare il recovery direttamente dall'interfaccia grafica di free pbx va a bloccare il servizio di ilafax a stopparlo non fa altro che decomprimere tutto l'archivio creato il backup di ilafax in vars pool ilafax riprende in attività il servizio di ilafax non fa altro che successivamente in questo rigo crea decomprime scusatemi decomprime il file del backup di avantfax in recovery avantfax blocca il servizio di http e in questa riga non fa altro che importa il db avantfax sql utilizzando chiaramente le credenziali in questo caso nel nostro caso è root con la password di root beable 2011 però è chiaro che dovete far riferimento sempre alle credenziali che vi sono state fornite di mysql e successivamente non fa altro che sincronizzare tutto il contenuto di questo database all'interno della cartella di appartenenza dove è stato installato l'avantfax alla fine non fa altro che riavviare il servizio http andiamo ad eseguirlo eccolo qui e via ora tutto è stato ripristinato per concludere e poi chiaramente verificare se il ripristino ha avuto esito positivo dobbiamo andare in sul nostro server free pbx admin e andare in tool backup and restore restore from backup e andiamo a scegliere il file andiamo a definire andiamo a settare il restore entire backup set aspettiamo qualche secondo ok applichiamo i cambiamenti andiamo subito a verificare la presenza eccoli qua di tutti gli interni e chiaramente tutti i rapporti è chiaro che se uscissimo e rientrassimo avremmo il problema che non possiamo più usare admin admin ma admin e la password che era presente prima ecco qua andiamo a verificare adesso chiaramente l'interfaccia web di avant fax eccola qua ci sono tutti i fax ripristinati con chiaramente l'archivio dei fax anche presenti ecco qua e quindi è tutto ripristinato senza alcun problema arrivederci alla prossima dove parleremo ulteriormente di backup con alcune idee molto interessanti grazie a tutti